Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi riceviamo insieme 5 consigli dei custodi di luce per farlo tornare da te. Questo video va bene sia per chi sta vivendo un periodo in cui con la persona amata c'è stato un allontanamento proprio fisico, quindi magari si sono lasciati eccetera, anche per chi invece, pur essendo in coppia, sente un po' di allontanamento emotivo. E quindi riceviamo 5 consigli da queste sagge creature di luce che ci possono aiutare per farlo tornare da noi. Pronte? Ok. Mischiamo. Consiglio numero 1 La speranza Amore e accettazione Il primo consiglio ci viene dato da Hope, dalla speranza, e ci dice di, a prescindere magari se c'è stato un litigio, se c'è stata un'arrabbiatura, se ci sono questioni di principio, tipo deve fare lui il primo passo, eccetera, di aprirsi all'amore e all'accettazione. Quindi capire che quello che è successo è anche dato dal fatto che lui magari ha fatto così, o tu sei fatta così, cioè accogliere i nostri punti di forza e anche i punti deboli. Quindi il primo consiglio che ci viene dato è che noi stesse dobbiamo vibrare amore. Quando magari si soffre per amore è come se paradossalmente ci si chiudesse all'amore, no? Perché appunto si soffre e quindi per evitare di soffrire c'è una vera e propria chiusura. Il primo consiglio dei custodi della luce è proprio quello invece di riaprirsi all'amore, di cercare di credere ugualmente nell'amore, di vibrare nella frequenza dell'amore, di accettare quello che è stato e di accoglierlo con la possibilità e la speranza che ci possa ancora essere un futuro. Quindi il primo consiglio è di aprirsi alla speranza. Infatti se vedi c'è il loto nel quarto chakra, quindi proprio il far sbocciare il cuore, perché purtroppo in queste situazioni se non parte la mente, parte ho ragione io, deve farlo lui, eccetera. Invece ricominciare ad aprirsi all'amore e vibrare amore. Consiglio numero uno. Consiglio numero due. E lei è proprio una dea dell'amore, perché Rada è la compagna di Krishna e quindi infatti parla della fiamma dell'anima. Quindi cerchi, il secondo consiglio per farlo tornare, è cercare di ripercorrere la vostra storia insieme. Cercare di prendervi un momento, se riuscite, per ripercorrere i punti belli della vostra storia. Quando ci sono degli allontanamenti, quando ci sono periodi, spesso si dimentica tutte le cose belle che si sono fatte e ci si concentra solo su quei momenti in cui le cose non sono andate. Quella parola non detta, quel gesto non fatto, anche le aspettative. Togliere le aspettative, ma accogliersi per gli esseri umani che siamo. Quindi in questo è importante provare a ritagliarsi un momento, magari mettere da parte l'orgoglio e di provare a mandare un messaggio o programmare un incontro laddove è possibile per ripercorrere passo passo i momenti belli trascorsi insieme. Quindi non focalizzarsi più sui litigi e sul tu hai fatto, hai detto, ma sul abbiamo fatto questo, questo e questo. Potrebbe essere bello, ad esempio, raccogliere una serie di immagini, di foto, di momenti belli passati insieme, magari anche stamparli e fargli un collage, per esempio, oppure scrivere una lettera in cui si ripercorrono i momenti belli. Quindi, insomma, riaccendere quella fiamma di amore che è nel cuore e di provare a mandare amore e guarigione alla relazione. Quindi il secondo consiglio è quello di ripercorrere i momenti belli della storia. E ce lo da Rada, lei di amore se ne intende. Terzo consiglio Prendiamo questa, mi chiama questa. E chiama sì ragazze. Curiose? Iside Manifestazione magica Allora, lei è la signora della magia. Quindi il terzo consiglio è fai un piccolo incanto. Il terzo consiglio è, per esempio, quello di iniziare a cercare di manifestare i tuoi sogni. Se, appunto, vuoi farlo tornare da te, puoi fare un piccolo piccolo dolce incanto. Puoi prendere un foglietto di carta, scrivere il tuo nome, il suo nome, metterli dentro un cuore e metterci sopra una candelina rossa. Può essere una tea light o può essere una candela normale. La cosa importante è che la candela deve bruciare tutta insieme. Quindi, se non hai tempo, magari perché la candela ci mette ore, prendi una tea light rossa, la trovi in tutti i negozi di casalinghi. Se, invece, hai la candela rossa, ricordati di fare l'incanto, per esempio, dopo pranzo, così sicuro per la sera è terminata la candela. Non servono lune, non servono orari, è un incanto di magia, di connessione. Ce lo dice Iside, quindi puoi chiamare Iside a fianco a te. Lei è, appunto, una grande dea della magia. Puoi chiederle di darti la forza di richiamare a te il tuo grande amore, ossia il tuo lui, e fare questo piccolo incanto. La scritta sul foglio puoi usare un pennarello rosso, per esempio una penna rossa, che si chiama il colore dell'amore. Se poi sei pratico, puoi aggiungere l'olio essenziale, puoi incidere la candela, ma se invece sei alle prime armi, non è importante quello che fai, ma l'intenzione che metti. Quindi, se non sei pratico, un fogliettino, con i vostri nomi dentro un cuore, una piccola candelina, è accendere la luce. Quindi, accendere la luce della speranza sul fatto che lui ritorni. E poi, appunto, aprirti a questa possibilità, ripensando ai momenti belli e chiamando, appunto, la signora della magia, per dare una piccola mano. Quindi, il terzo consiglio è un pizzico di magia. Quarto consiglio Arriva pure Brigitte Arriva Brigitte con la forza interiore Il quarto consiglio è sì, forte È vero che quando c'è amore, una persona a volte dà tutto pur di farlo tornare, però non sempre va bene. Ci sono anche le volte in cui bisogna essere forti. Quindi tu stai seguendo i consigli che ti stanno dando i custodi di luce. Nutri dentro di te la speranza. Gli hai mandato, ad esempio, un messaggio, una lettera con la raccolta dei momenti belli, una bella frase che usavate voi, un qualcosa, insomma, di intimo, di solo vostro, no? Ho un momento bello, hai fatto il tuo incanto, poi sii forte. Devi, diciamo, diventare uno zerbino per nessuno. Nessuno deve avere questo potere su di te. Ok? Possiamo amare tantissimo, però la prima persona che va sempre amata siamo noi stessi. Anche perché Brigitte custodisce la fiamma. La prima grande fiamma è quella che brucia in noi. Noi siamo il più grande amore della nostra vita. Chi ci ama è il benvenuto. Chi non ci sa apprezzare è peggio per lui. Quindi Brigitte dà questo bello quarto consiglio. Quinto consiglio. Maavatar Babaji. E ci dice l'espansione dell'anima. Quindi il quinto consiglio è quello del fatto che la tua consapevolezza si sta espandendo. Quindi può darsi anche che farlo tornare da te è una cosa buona se anche lui si evolve. Se tu ti stai evolvendo, anche la persona che sta con te deve evolversi. Non basta avere una persona a fianco. Deve essere una persona che ti nutre. Deve essere una persona che ti aiuta ad evolvere. Quindi il quinto consiglio è fai, espandi la tua anima affinché anche la persona che ami la possa percepire e grazie alla tua espansione possa evolversi a sua volta. Questo è fondamentale perché se in questo momento c'è distacco, allora può anche voler dire che siete in un momento di trasformazione. Quindi tu continua sempre a amarti tantissimo, a curare la tua trasformazione perché questa trasformazione può essere di stimolo anche a lui. Questo è importantissimo. Quindi mi raccomando, espandi la tua anima che è anche un modo per richiamarlo. Ragazzi, a me è piaciuto tantissimo fare questa cosa. Mi era venuta una volta da mentre leggevo i miei registri acascici e gli chiedevo ai maestri cosa posso fare per le ragazze e i ragazzi. Perché abbiamo anche i ragazzi maschietti che sennò dicono perché parli sempre al femminile? Parlo al femminile perché siamo più femminucce. I nostri maschietti sono cavalieri e quindi accettano che si usa il femminino generico. Detto questo, in realtà anche i maschietti sono benvenuti, quindi questo metodo era 5 consigli per far tornare lui o far tornare lei. I custodi della luce sono stati meravigliosi, i messaggi che ci hanno dato sono stati davvero belli. A me è piaciuto tantissimo fare questo video con i consigli. Se vi piace scrivetelo nei commenti e ditemi anche su che volete consigli, quindi su che chiediamo la prossima volta. E spero che ti sia piaciuto, se ti è piaciuto regalami un like così io lo capisco e continuo a fare questo tipo di video. Oppure mettimi un messaggino così mi dici se ti è piaciuto o meno. Perché magari quello che piace a me non è quello che piace a voi, a me è piaciuto tanto come video. Spero che anche a te. E se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito. E attiva anche la campanella così non ti perdi nessun video. Ti mando un saluto grande e al prossimo video. Ciao!